Ciao a tutti, in questo video noi parleremo di un'autrice in particolare che in verità ci serve per poter parlare di un argomento letterario molto dibattuto da sempre, sin da Proust alla Madeleine, ma anche prima, che è il tema del ricordo. È una tematica che è sicuramente presente anche in altre arti narrative come il cinema, non lo so, pensiamo a quanti film tratteggiano la messa in discussione del ricordo. Mi vengono in mente, ad esempio, l'arte del sogno di Michel Gondry, no, è l'arte del sogno, se mi lasci ti cancello, di Michel Gondry, ma anche Walser con Bashir, che aveva quella scena in particolare in cui si mette in discussione la veridicità di un ricordo. E quindi la letteratura di Ella Asse, non so il neerlandese, quindi se sbaglio a pronunciare qualcuno me lo dirà, ruota, almeno per quanto riguarda i due libri da me letti, attorno al tema del ricordo. I due libri in questione sono Genius Loci e La Fonte Nascosta. A quanto ho capito questa autrice, quando non tratta di storie contemporanee, che comunque hanno a che fare con un passato lontano, tratta di opere di carattere storico. Facendomi ricordare una regista taiwanese molto importante, che è Uxiao Sien, non so il cinese, pardonne moi, che appunto è specializzato nella concezione di una poetica legata al tempo e al ricordo, caratterizzata da film di tipo storico, e quando invece sono contemporanei sono spesso film legati al discorso del tempo, come Millennium Mambo o Three Times. Quindi per certi aspetti Ella Asse mi ha ricordato Uxiao Sien, che è un autore che a me piace molto. Ma Ella Asse, diciamo che, nel suo studio del ricordo, ne mette in discussione anche la cosiddetta veridicità, no? E quindi è questo l'argomento del video, ovvero la funzione del ricordo come fonte narrativa, no? Però per facilitare le cose, iniziamo a parlare un po' dei libri in questione. Allora, il primo, Genius Loci, è in realtà una raccolta di due brevi racconti, dove il succo è che i giardini, perché in ognuno dei due racconti c'è un giardino che sprigiona la memoria, no? Dando per scontato, o comunque dando l'impressione, che la natura, il paesaggio, non dimentica ciò che è successo. E sono memorie sia di tipo storico, che memorie collettive, culturali, ma anche memorie affettive, familiari, no? Però la cosa particolare è che comunque, per caratterizzare i cambiamenti storici, molto spesso, è nell'intimità che si colgono i segnali di un cambiamento, sia positivo che negativo. E quindi tantissimi autori fanno riferimento agli affetti e alla situazione familiare, per poter parlare dei cambiamenti decisivi della società, no? Ed è quello che fa questa autrice, sia Ingegno Sloci che La Fonte Nascosta. E La Fonte Nascosta è una villa, una villa disabitata, che porta al ricordo di una persona morta, suicida, no? La Fonte Nascosta è un breve romanzo, non è un racconto, dove il protagonista, visitando questa villa, ha il ricordo di una persona che ha amato e che ha deciso di togliersi la vita. E quindi la casa inizia a dare le sensazioni dei ricordi. La cosa veramente bella è che mentre Ingegno Sloci i ricordi appaiono come registrati, nel senso che vengono scaturiti. È un po' come se il giardino avesse un pulsante e il visitatore inadvertitamente lo schiacciasse e facesse partire un filmato, un filmato registrato di ciò che è successo. In La Fonte Nascosta invece i ricordi vengono filtrati da un occhio che è interno alla vicenda ed esterno per certi aspetti. Perché comunque la scelta del suicidio non è compresa appieno dal protagonista che ha sofferto questa perdita, ma allo stesso tempo diciamo che è un po' come se nel ricordare manipolasse il ricordo. Già solo da questi due libri ho visto come il ricordo, la memoria, sia la fonte principale della poetica di questa autrice. Correggetemi se sbaglio, nel senso che se voi già la conoscete, avete letto qualcos'altro di suo, potete smentirmi. Però questa è l'impressione che ho avuto da questi due libri che sono molto simili. E quindi è l'idea del ricordo, la funzione del ricordo come elemento narrativo per poter creare, per poter abbattere il tempo, il tempo inesurabile che ci porta verso la fine, no? E la fine, ed è un po' come se la morte coincidesse con la nostra fine, ma allo stesso tempo come se il paesaggio, che per certi versi è eterno ma mutevole, riuscisse comunque a registrare tutto, le memorie che vengono impresse sulla terra, no? Ed è molto affascinante da questo punto di vista. Però allo stesso tempo in La Fonte Nascosta c'è uno step successivo, secondo me, ovvero del ricordo manipolabile, che è un po' la questione che c'è anche nel film Valtzer con Bashir, no? L'idea che molto spesso i ricordi non sono perfettamente coerenti con quello che abbiamo vissuto, ma la nostra mente tende a manipolarli. Sia per il fatto che non lo so, ci sono stati anche studi a riguardo. Se tu vai da una persona e gli dici, lo sai che a due anni siamo andati a Disneyland per dire che quella persona non si ricorda questa cosa, ma è come se la ricordasse perché gli viene inculcata, ci sono dei procedimenti psicologici a riguardo. E questa cosa è bella ma spaventosa allo stesso tempo, è molto inquietante, no? Con l'idea anche, il terrore dell'Alzheimer, no? Il terrore di dimenticare le memorie, i ricordi. Perché alla fine l'idea dell'essere umano, cioè l'obiettivo dell'essere umano, un po' anche per il suo ego, è quello di lasciare una traccia, di sconfiggere la morte riuscendo a lasciare una traccia di sé dopo la sua dipartita. Ed essere ricordato nelle generazioni successive. Il problema è che ci si chiede anche, c'era la canzone degli stadio, chiedile chi erano i Beatles, no? E quindi anche chi è grande alla fine è destinato a sparire. Però l'aspetto più bello di questi libri e della poetica di L'Asse è che comunque noi spariamo ma la natura non dimentica. la natura oggettiva, ma la persona che riesce attraverso la natura, attraverso l'innescono, di ricordare, manipola il ricordo a proprio piacimento. E quindi si crea una sorta di conflitto tra tempi passati. Ed è molto affascinante, secondo me. Quindi vi consiglio questa autrice, perché vi porta a farvi dei trip assurdi. La scrittura è molto eterea, molto soffusa, a tratti molto lenta, e quindi dovete essere proprio nel mood. Sono i classici libri da leggere con un tè caldo, oppure in un giardino immenso durante un pomeriggio di primavera, no? Come adesso, è arrivata la primavera, no? E' emozionante, commovente, fa riflettere. Leggerai volentieri qualcos'altro di L'Asse. Veramente, mi piace, mi piace. Poi a me la tematica del ricordo interessa molto, e la trovo interessante per la creazione di opere narrative, in modo da creare più piani paralleli, no? Perché alla fine quasi tutta la letteratura o l'arte narrativa, chi più chi meno, ruota attorno al concetto di senso della vita. Che, cioè, tutti se lo chiedono. Anche il poraccio che va al bar e dice bella figa, bel culo, se lo chiede, perché sta al mondo, almeno una volta nella vita. E niente, fatemi sapere se conoscevate questa autrice, o se dopo il mio video volete leggerla, non volete leggerla, non vi interessa, non vi è piaciuto, vi è piaciuto, fatemi sapere, io sono contentissimo. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao, ciao!